Sulla vicenda dei fondi per l'alluvione dello scorso 23 gennaio in provincia, la regione chiarisca che punto è l'Ital affinché sia erogato in tempi brevi il rimborso previsto. Lo afferma l'onorevole Nino Minarda, dire del quale sono passati parecchi mesi dalla calamità naturale che ha provocato danni ingenti soprattutto a modiche scicli, da qui la presentazione di un ordine del giorno del sottoscritto che ha avuto parere favorevole dal governo e impegnato l'esecutivo a stanziare le somme necessarie per il ristoro dei danni subiti da privati e comuni. Per il parlamentare modicano è quindi opportuno che il rappresentante Crocetta vi è immediata risposta ai territori danneggiati, stessa cosa per i sindaci che devono alzare la voce in maniera coerente e propositiva col governo regionale. Minardo ricorda anche che lo stesso Crocetta era venuto a Modica facendo precise promesse alla città, soprattutto sui tempi purtroppo disattesi fino ad oggi. Ma è anche tempo che i sindaci esercitano i loro poteri, sottolinea Minardo, e chiedono un incontro immediato a Crocetta invitandola a tornare in città con le carte pronte e i decreti firmati, altrimenti, conclude il parlamentare di Forza Italia, tutto si sarà ridotto ad un ulteriore inutile annuncio con la beffa oltre al danno.